Allora, con lo sgombro, ma l'ho fatto tutta la schiera. Oh, la seduta. Non mi ricordo perché mi hanno fatto assagire ultimamente. Ma si è stati veloci e ti riuscire. Grazie, grazie. Sì, è pronto. C'è tutto pronto. Non c'è un po' la base. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.